Benvenuti nel nostro canale, importante per noi avere il tuo supporto, prima di iniziare il video premi il pulsante iscriviti, lasciami un mi piace, e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. I 20 paesi più belli d'Italia da visitare Pronto a scoprire con noi la nuova edizione dei paesi più belli d'Italia da visitare nel 2023? Soggiorni panoramici torna con la sua lista tanto attesa, ogni regione italiana è unica e merita di essere esplorata, magari a partire dal borgo che abbiamo scelto per questo ennesimo anno di vacanze italiane. Scopri i monumenti e le testimonianze di epoche lontane, avventurati tra paesi medievali, città arroccate sui monti o affacciate sul mare, e fai il pieno di bellezza in questi luoghi magici dove il tempo sembra essersi fermato. Dalla Valle d'Aosta alla Calabria, passando per le isole di Sardegna e Sicilia, le città più belle d'Italia, i paesi più suggestivi e i borghi meno conosciuti sono pronti a farsi scoprire. Siamo curiosi di conoscere i luoghi speciali che per te hanno un significato unico. Se il tuo luogo del cuore non è stato menzionato nella lista, non preoccuparti. Vogliamo scoprire tutte le gemme nascoste e i luoghi che ti toccano il cuore. Lascia un commento in fondo al video e condividi con noi il tuo luogo speciale. Ogni luogo ha una storia da raccontare, e siamo entusiasti di ascoltare la tua. Shamois Valle d'Aosta Prende il nome dal delicato mammifero alpino il piccolo comune di Shamois incastonato nella Val Tournance, la valle laterale della Valle d'Aosta. Il borgo Valdostano, che conta circa 100 abitati e si trova a quota 1800, può essere raggiunto a piedi, con gli sci quando c'è neve oppure in funivia da Buisson. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato questo, a partire dalla circolazione stradale interdetta al traffico, nessuna auto quindi, il che crea un ambiente sicuro, silenzioso e rispettoso dell'ambiente. Infatti Shamois si è guadagnata il titolo di Perla delle Alpi, che premia i comuni montani più virtuosi per sostenibilità ambientale e mobilità dolce. Se cerchi vita lenta e aria fresca questo è senza dubbio il paese più bello d'Italia da visitare nel 2023 per una vacanza attiva, da qui partono tante escursioni verso altri villaggi, cime e per il santuario di Clavalité. Garessio Cuneo, Piemonte Decine di percorsi escursionistici partono anche da Garessio, comune in provincia di Cuneo, che con i suoi sentieri conduce alla scoperta delle magnifiche Alpi marittime, da segnalare il percorso rosso da Garessio al castello di Casotto e il percorso blu, da Garessio a Ceriale. Allaccia le scarpe da trekking ma prima di partire alla scoperta del territorio limitrofo dedica almeno una giornata alla visita del paese, che conserva splendide testimonianze architettoniche come il complesso medievale del Borgo Maggiore, con i resti del castello e delle mura, la confraternita e il battistero di San Giovanni, le chiese e il santuario di Valsorda, le decorazioni e i portali delle case del Poggiolo, e il ponte, che dà il nome alla borgata più viva. Inizia la visita dopo un degno assaggio di tipica polenta saracena a base di sugo di porri e concludi il pasto con i friscioi, frittelle di mele. Finalborgo Savona, Liguria Se c'è un gioiello ligure da visitare, conosciuto a pochi al di fuori della regione, quello è Finalborgo, nella bella provincia di Savona. Il nome deriva da Burgum Finarii, terra di confine ai tempi dei Romani e infatti, ancora stretto tra imponenti mura medievali ben conservate e alternate a preziose porte, il Borgo offre una sensazione di protezione e raccoglimento. A stupirti sarà il suo fascino montano, non a caso questa è la destinazione per eccellenza dei climbers liguri, che in questo territorio possono trovare interessanti pareti e falesie da arrampicare, noterai subito la sua vocazione dalle botteghe e dai tanti negozi di attrezzatura sportiva presenti. Non solo sport, ma anche bellezze storiche e artistiche, con i palazzi quattrocenteschi e di epoca rinascimentale che impreziosicono l'abitato e la collegiata di San Biagio, favolosa chiesa barocca del ponente ligure. Tirano Sondrio, Lombardia La Valtellina saprà conquistarti al primo sguardo e, ovviamente, al primo assaggio, questa è la terra dei pizzoccheri, della bresaola, della slinziga, il salume di bovino, dei chiscio e frittelle di grano, del braulio e di altre specialità da non perderti. Tra i paesi più belli d'Italia da visitare nel 2023 ecco Tirano, crocevia geografico a un passo dal confine svizzero, dove percorrere percorsi alpini di grande bellezza e salire a bordo del treno più iconico delle Alpi. Una delle esperienze più suggestive da fare in Valtellina è il viaggio a bordo del famoso trenino rosso del Bernina, patrimonio UNESCO, e Tirano è proprio la città di partenza di questo viaggio pieno di emozioni e paesaggi che la collega a strada Moritz. La perla dell'Engadina Una volta qui, non perderti anche una visita al Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, una passeggiate tra i Meleti e una sciata nella vicina Livigno. Caldaro Bolzano, Trentino Alto Adige Se sei un amante del vino, dello sport e della natura Caldaro può rivelarsi come la tua meta dei sogni. Il comune della provincia di Bolzano è abbracciato da un paesaggio di vigneti e frutteti ed è proprio il vino, assieme al lago, bacino che in tutto l'arco alpino vanta la temperatura più elevata. A fare della località una destinazione così famosa in Italia, perfetta per una visita in ogni momento dell'anno, in autunno ti aspetta il Tor Gelen, la stagione delle Castagnate, con la sua atmosfera folcloristica e romantica al tempo stesso, senza dimenticare il Natale con i mercatini tipici. Nel territorio di Caldaro sulla strada del vino, questo è il suo vero nome per esteso, si producono i vini con il nome Lago di Caldaro scelto, Calterersee Auslese. Sotto questa etichetta viene prodotto il vino Schiava, un vino leggero che è distribuito e apprezzato in tutto il mondo. Giazza di Selva di Pronio Verona, Veneto Parla tedesco Giazza, la deliziosa frazione del comune di Selva di Pronio, in provincia di Verona. Un luogo epico in tutta Italia questo essendo l'unica località rimasta degli antichi tredici comuni della Lessinia, dove ancora si parla il Cimbro, parlata germanica di origine bavarese meridionale portata qui da un gruppo di emigranti di origine tedesca in epoca medievale, basti pensare che il suo nome originario è Eliezzan. Unicità linguistica e storica a parte, se sei un amante della natura qui puoi davvero riconciliarti con il mondo esplorando il parco regionale della Lessinia e la bellissima foresta demaniale, e anche affrontando i tantissimi itinerari che partono da qui come l'escursione alla Valfraselle o verso il Monte Carega, che conducono al Lago Secco, il Rifugio Revolto, il Rifugio Scalorbi e il Rifugio Fraccaroli, tutti sentieri ideali anche per famiglie e meno esperti. Duino Trieste, Friuli Venezia Giulia Se cerchi uno dei paesi più belli d'Italia affacciato sul mare, il nostro consiglio è quello di visitare Duino, un gioiello della provincia di Trieste che vanta un castello adagiato su alte falesie sull'Adriatico. Le sue romantiche rovine, l'imponente mole del Castello Nuovo, il parco, il bunker, e il panorama spettacolare, sono visitabili e possono regalare grandi emozioni. Da non perdere, una volta qui, la riserva naturale delle falesie di Duino all'interno della quale si sviluppa la passeggiata Rilke, il sentiero che parte da Sistiana e conduce a Duino è lungo circa 2 km, si percorre in 30-40 minuti ed è intitolato al famoso poeta Rainer Maria Rilke, che fa di questo borgo marinaro una meta turistica unica. Se fai tappa qui per mangiare, prova il brodetto alla Triestina o i gamberi di acqua dolce alla menta. Verrucchio Rimini, Emilia Romagna Tra i 20 paesi più belli d'Italia da visitare nel 2023 spunta Verrucchio, comune italiano in provincia di Rimini, in Emilia Romagna. Questo piccolo borgo di orgine medievale si trova a pochi chilometri dalla Repubblica di San Marino e regala una bellissima veduta da cartolina sulla Valmarecchia. A mena vallata tracciata dall'omonimo fiume. Puoi inziare il tuo tour alla scoperta di Verrucchio dal simbolo cittadino, la rocca malatestiana detta anche rocca del sasso raggiungibile sia in auto, sia a piedi percorrendo le vie cittadine per una full immersion nel passato medievale del borgo. A proposito del borgo, cerca di goderti la sua atmosfera ferma nel tempo e passeggia lungo via Mura del Fossato, l'antica via che circonda le mura del paese. Prima di ripartire, non mancare di assaggiare i tipici cappelletti in brodo e la zavardona, ricetta di maltagliati conditi con sugo e stracchino. Pitigliano Grosseto, Toscana La provincia di Grosseto vanta gioielli unici che meritano di essere esplorati. Tra i paesi più belli d'Italia ti consigliamo di visitare Pitigliano, splendida cittadina che sorge dal tuffo, nel cuore della bellissima Maremma Toscana. La piccola Gerusalemme, così chiamata poi che a partire dal XVI secolo ospitò una grande comunità ebraica, questa è una tappa imperdibile durante un viaggio in Toscana alla scoperta della storia. Il primo impatto sarà sensazionale arrivando in auto e fermandosi al belvedere di fronte al santuario della Madonna delle Grazie, da qui godrai della vista incredibile del borgo, premiato con tanto di bandiera arancione. Da non perdere il Palazzo Orsini, l'Acquedotto Mediceo, il Ghetto Ebraico con la Sinagoga, e infine le chiese, come la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di San Rocco e il Santuario della Madonna delle Grazie. Scheggino Perugia, Umbria Se cerchi una vacanza attiva, con la possibilità di praticare diversi sport nella natura e godere dei sapori più autentici di una regione come l'Umbria ti consigliamo Scheggino, un piccolo comune della provincia di Perugia, ubicato in prossimità del fiume Nera, fiume attorno al quale ruota tutta la vita del borgo basti solo pensare alla pesca della trota fario e dei gamberi d'acqua dolce, assolutamente da provare. Il paese, che conta meno di 500 abitanti ed è situato a poca distanza da Spoleto, possiede stretti vicoli acciottolati, un bel castello e un'energia esplosiva, ti consigliamo di raggiungerlo per vivere delle avventure da non dimenticare direttamente nel cuore della Valnerina, anche estreme volendo, come l'arrampicata e il torrentismo. A pochi passi dal borgo di Scheggino si trovano le splendide fonti di Valcasana, che offrono un meraviglioso spettacolo naturale. Serra Sanquirico Ancona, Marche Da Lumbria alle Marche il passo è breve. Anche questo borgo è la mecca per gli amanti dello sport, nello specifico dell'arrampicata, con la presenza di magnifiche falesie naturali e di un festival davvero singolare che vi si svolge a settembre e che vi consigliamo di scoprire se siete appassionati del settore ma anche non praticanti, il Frassassi Climbing Festival, una vera maratona di arrampicata, con il divertente street boulder in versione nottura e le sessioni di yoga. Il paese regala suggestivi panorami sulla vallata, un'atmosfera fiabesca e tante cose da fare e vedere nei dintorni, come una visita alle grotte di Frassassi al Tempio del Valadie, nella vicinissima Genga, distante soli 12 chilometri, altro posto che non può mancare nella nostra lista dei paesi paesi più belli d'Italia da visitare nel 2023. Ronciglione Viterbo, Lazio La Tuscia incanta e ritorna vincitrice nella nostra lista dei 20 paesi più belli d'Italia da visitare nel 2023 con il Borgo dei Borghi dell'Anno, Ronciglione, un vero gioiello della provincia di Viterbo che sorge su di uno sperone tuffaceo che saprà incantarti. Il paese di circa 8000 anime si trova abbastanza vicino alla capitale e può essere visitato anche con una gita di un giorno, per un'immersione totale nella tradizione laziale fatta di buona cucina, antico folklore e calda ospitalità. A proposito di tradizione, Ronciglione è davvero famoso per il suo carnevale storico che ogni anno attira migliaia di turisti con il suo variopinto carosello di maschere realizzate a mano, il veglione e i divertenti quanto dissacranti carri allegorigi. Fatti un giro per il Borgo Medievale e prima di tornare a casa dedica almeno una mezza giornata alla scoperta della natura della riserva del lago di Vico. Pietra Camela Teramo, Abruzzo L'Abruzzo rapisce il cuore con la sua natura selvaggia, le tradizioni millenari ancora vive, i sapori schietti di una volta e l'ospitalità dei suoi abitanti. Nella lista dei paesi più belli d'Italia da visitare nel 2023 vogliamo inserire anche Pietra Camela, un paese che sorge sulle pendici del corno piccolo del massiccio del Gran Sasso, nell'area protetta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Questo territorio di incomparabile bellezza merita di essere esplorato anche per praticare innumerevoli attività all'aria aperta come camminate e trekking sui sentieri storici, mountain bike, ascensioni in quota, alpinismo e roccia, palestra degli Aquilotti, sci a prati di Tivo, cinque impianti di risalita e tanto altro. Basti solo pensare che da Pietra Camela partono i sentieri che conducono alle sorgenti del rio Arno, alla Madonnina del Gran Sasso e al rifugio Franchetti, per citarne alcuni. Dei più belli della zona. Pittoresco anche il centro storico in Pietra, merita la visita. Santa Maria del Molise Isernia, Molise Come non inserire Santa Maria del Molise tra i paesi più belli da visitare in Italia? Questo che è uno dei borghi più belli del Molise ti aspetta ai piedi del Matese, con le sue preziose acque del rio, il borgo medievale di Sant'Angelo in grotte e le sue chiese e tra i monumenti più importanti c'è la chiesa e la cripta di S. Pietro in Vincolis. Questo è il paese d'acqua, un luogo idilliaco dove passeggiare tra cascate e natura rigogliosa, che tanto ricorda i luoghi delle fiabe. Una volta qui dovrai visitare il Parco dei Mulini, un luogo completamente immerso nel verde che ti aspetta con pittoreschi corsi di acqua, deliziose cascatelle e, come dice il nome, antichi mulini in pietra. Un tempo necessari per l'approvvigionamento idrico della meno abitato. Concediti un picnic all'ombra degli alberi, fa i birdwatching e incontra il raro gambero di fiume, piccola eccellenza ittica del territorio. Massa Lubrense Napoli, Campania La penisola sorrentina non può mancare nella nostra lista dei luoghi più belli d'Italia da visitare nel 2023. Abbiamo scelto la bellissima Massa Lubrense per via della sua baia spettacolare che ti consigliamo di visitare almeno una volta nella vita. Stiamo parlando dell'area naturale della baia di Eranto, unica in senatura all'estremità della penisola che sorge proprio davanti ai faraglioni di Capri. Il suo scenario naturale dove, secondo Plinio il vecchio Ulisse avrebbe incontrato le sirene, da qui l'appellativo di terra delle sirene, saprà riconnetterti con il mondo e riempirti gli occhi di meraviglia. Oltre alla natura spettacolare, anche l'abitato del comune merita di essere esplorato, Massa Lubrense vanta degli scorci unici come il porticciolo di Marina della Lobra e l'omonimo borgo con i deliziosi ristorantini, che propongono la gustosa cucina della costiera amalfitana. Giovinazzo Bari, Puglia Un borgo di pescatori che sembra fermo nel tempo e un magnifico porto dalle acque cristalline, e sulle quali si riflette la concattedrale di Santa Maria Assunta. Benvenuto a Giovinazzo, uno dei borghi meno conosciuti della Puglia fuori dai suoi confini, che secondo la redazione di Skyscanner merita di essere visitato e apprezzato in questo 2023. Siamo nella bella provincia di Bari dove le tradizioni sono ancora forti, come anche le emozioni che potrai avere esplorando il suo variegato territorio. Tra una visita alla bianca cattedrale di Trani e una al simbolico Castel del Monte, dedica almeno una giornata a questa perla dell'Adriatico, sempre se non vuoi trascorrere una vacanza più lunga e rigenerante in questo angolo della regione. Qui puoi alternare passeggiate nel bianco borgo ad aperitivi in barca al tramonto, per un'esperienza a tu per tu con il selvaggio blu. Policoro Matera, Basilicata Il museo archeologico, la magnifica spiaggia e l'atmosfera rilassata Tutto questo è Policoro, la meta giusta per l'estate 2023, un borgo lucano che impreziosisce la costa ionica con le sue bellezze alla portata di ogni viaggiatore. L'antica Eraclea, che sorge al centro del Golfo di Taranto, può regalare una vacanza alla scoperta dei gioielli naturali e storici della Magna Grecia. Una città come Policoro si distingue anche come notevole centro balneare della regione, caratterizzato da ottime strutture ricettive. E poi ci sono i dolci sapori del territorio a rendere questa zona ancora più amata, uno dei prodotti da menzionare è la fragola Kandonga Top Quality che ti consigliamo di provare, insieme alla buona frutta e verdura che vengono prodotte in questa terra fertilissima, anche nota per i vini del Metapontino, come il Bianco Malvasia e il Moscato. Staletti Catanzaro, Calabria Pare che a Staletti si trovino tra le spiagge più belle di tutta la Calabria e di certo questo luogo è meno inflazionato rispetto ad altre località come Tropea, meravigliosa ma affollata. Qui ci troviamo nella costa degli Aranci, in provincia di Catanzaro, in un territorio fatto di distese di sabbia e di grotte marine, perfetto per gli amanti della vita di mare. Il Golfo di Squillace saprà regalarti dei panorami da mozzare il fiato, basti pensare che da qui si può godere della vista che vada crotone a punta stilo. Nella Baia di Caminia si possono osservare numerosi reperti archeologici come la Torre di Guardia e le Fornaci per la Calce, ma si possono vivere anche momenti di grande divertimento tra locali notturni e spiagge animate. La vicinanza a Soverato e ad altre località come Copanello, Squillace e Monte Paone Lido, rendono questa zona come una mecca della gioventù. Ula Sai Nuoro, Sardegna La Sardegna dei Tacchi, Monti Calcareo Dolomitici il cui nome deriva dalla particolare conformazione di tacco, ti lascerà credere di trovarti tra le grandi distese del Grand Canyon. In questo paesaggio a dir poco spettacolare e del tutto inaspettato si trovano alcuni dei paesi più belli d'Italia da visitare nel 2023. Il nostro preferito Aula Sai, un borgomuseo al centro dell'Ogliastra, parte centro-orientale della Sardegna, caratterizzato da tradizioni, prelibatezze e un territorio preistorico. Qui, non solo potrai ammirare i tacchi d'Ogliastra ma anche scendere nelle viscere della terra alla scoperta delle grotte di Sumarmuri, dal Sardo e Grotte di Marmo, tra le più importanti d'Europa e che si estendono per oltre 850 metri con picchi di altezza di ben 70 metri. Ma anche la superficie merita, con il suo borgo di piccole casette, i pastori e l'atmosfera sognante. Gibellina Trapani, Sicilia Il terribile terremoto del 1968 ha distrutto gran parte della Valle del Belice, in provincia di Trapani, ma ci sono stati alcuni comuni che hanno saputo risorgere dalla propria ceneri come un'araba fenice. Stiamo parlando di Gibellina Nuova, risorta grazie a un ambizioso progetto di arredo urbano contemporaneo che saprà sbalordirti. Il sito, su cui sorge l'attuale centro abitato, è lontano solo 11 chilometri dai ruderi del vecchio paese, in cui il grande Alberto Burri ha realizzato l'opera memoriale di Land Art del Grande Cretto. Tanti artisti e architetti internazionali sono giunti fin qui per plasmare l'aspetto della nuova città antisismica e renderla un museo a cielo aperto che merita di essere visitato, soprattutto se ami le installazioni artistiche e l'arte contemporanea. Onirica l'atmosfera ma anche rilassante al tempo stesso, il posto giusto per trovare buona energia. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.